Una vera e propria holding della droga, molto attiva in Abruzzo e fuori regione, come la definisce la Guardia di Finanza, è stata sgominata questa mattina dalle fiamme gialle nel corso di un'operazione che ha interessato i territori di Pescara, Terra, Mocchieti e le province di Roma, Varese, Torino, Frosinone e Pisa per un totale di 29 ordinanze. Il blitz finalizzato a smantellare una organizzazione criminale senegalese specializzata nel traffico e spaccio di stupefacenti ha visto impegnati dalle prime luci dell'alba oltre 120 finanzieri del comando provinciale di Pescara, supportati da unità cinofile e da un elicottero del reparto operativo aeronavale di Civitavecchia. L'indagine ha messo in luce come sul territorio operasse un'organizzazione criminale di etnia senegalese, molto attiva, molto aggressiva, che riusciva a movimentare sulla piazza fino a 40 kg di droga leggere a settimana. L'indagine ha messo in luce infatti contatti molto importanti con la criminalità albanese e con la criminalità di etnia magrebina. Nel momento in cui un soggetto, un senegalese, un corriere fosse colpito, fosse fermato da un'attività di polizia giudiziaria, immediatamente veniva rimpiazzato quasi sul posto da un'altra appartenente all'organizzazione. I canali erano sostanzialmente due ed erano riferiti alle tipologie di stupefacenti. Per quanto riguarda le droghe leggeri il principale era quello albanese, i grossi quantità di marijuana venivano fatte arrivare dall'Albania. Per quanto riguarda le droghe pesanti il nord Europa, in particolare il Belgio, droghe che arrivavano, transitavano a Pescara, arrivavano a Pescara passando dal Piemonte, in particolare da Torino, grazie all'intervento di cosiddetti ovulatori, cioè gli ingoiatori di ovuli di stupefacente. La droga leggera principalmente sulla piazza pescarese, ma su tutto il litorale che va abruzzese, che va da Silvi a Francavilla al Mare. Complessivamente l'organizzazione poteva tranquillamente arrivare anche a oltre un milione di euro all'anno.